Il lavoro minorile in Kenya, così come in tutta l'Africa, è ancora un fenomeno diffuso. Su un totale di circa 150 milioni di bambini al mondo costretti a svolgere lavori in età scolastica, la metà di loro, circa 70 milioni, popola il continente africano. Il Kenya registra un numero di lavoratori al di sotto dei 15 anni ancora troppo alto. Il lavoro minorile è una violazione dei diritti umani, che interferisce con l'istruzione e compromette lo sviluppo fisico, mentale e sociale dei bambini. Il lavoro minorile è definito come l'attività lavorativa che priva i bambini e le bambine della loro infanzia, della loro dignità e influisce negativamente sul loro sviluppo psicofisico. Esso comprende varie forme di sfruttamento e abuso, spesso causate da condizioni di estrema povertà, dalla mancata possibilità di istruzione, da situazioni economiche e politiche in cui i diritti dei bambini e delle bambine non vengono rispettati, a vantaggio dei profitti e dei guadagni degli adulti. Sono l'agricoltura, l'abbigliamento, l'edilizia, l'industria mineraria, il traffico e lo sfruttamento sessuale dei bambini a rappresentare i settori e i fenomeni dove l'impiego di minori è più diffuso, in Africa come in Asia. In Africa subsahariana, ad esempio, i minori vengono adoperati nelle attività di estrazione del cobalto e nelle piantagioni di caffè, mentre l'agricoltura assorbe l'85% di tutto il lavoro minorile, 61,4 milioni di bambini in termini assoluti. Nelle sue forme peggiori il lavoro minorile può tramutarsi in schiavitù, sfruttamento sessuale ed economico. Un dato agghiacciante fatto emergere dagli studiosi è che i progressi verso la fine del lavoro minorile nel mondo sono bloccati nei paesi che forniscono beni e materie prime ai paesi occidentali. Per quanto riguarda il lavoro minorile in Kenya, i dati del Kenya National Bureau of Statistics mostrano che l'8,5% dei bambini, ovvero 1,3 milioni, sono coinvolti nel lavoro minorile. I più alti tassi di lavoro minorile, oltre il 30%, sono nelle contee delle terre aride e semiaride. Qui molti ragazzi vengono mandati a radunare il bestiame o a raccogliere sabbia, mentre le ragazze si sposano molto presto e sono impegnate nei lavori domestici. All'interno delle baraccopoli di Nairobi, la situazione è ancora peggiore. Appartengono al quotidiano le scene di bambini che rovistano fra i rifiuti delle montagne di spazzatura che ricoprono superfici sterminate di chilometri e chilometri in cerca di materiali e oggetti da rivendere per guadagnarsi da mangiare. È questo lo spettacolo a cui si assiste ad Andorre Corogocio, le baraccopoli nelle quali Alice for Children opera da 15 anni. Il Kenya si è impegnato a livello internazionale per porre fine alla piaga del lavoro minorile, ratificando dapprima la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e successivamente alla Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile. Anche se in Kenya l'età minima per l'ingresso nel mondo del lavoro ai 13 anni, troppi bambini continuano a lavorare ogni giorno. Il nuovo governo, guidato dal neoeletto William Ruto, deve impegnarsi affinché le leggi del paese vengano effettivamente rispettate e milioni di bambini possano andare a scuola e avere un'infanzia serena, lontana da lavori usuranti e pericolosi.